eccoci qua questa è la situazione vai vai molleggia 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 con le gambe molleggia 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 e poi anche già a destra sinistra destro sinistro antipasto no no così no antipasto misto meglio no meglio oh sei sciacco di coglione porca maia meglio meglio ma è meglio sto cazzo no sei sciacco dico io allora come? destro sinistro antipasto misto è logico cioè destro sinistro antipasto misto vai provisci vai destro destro sinistro antipasto misto no non è così che si fa meglio no ti mannaggia la maglia ma che mi ha cascato un dio destro con me fa con me destro sinistro ma stanotte che è successo c'era un trattore in camera e io quando magno e bevo raga russo come un caprone ma penso tutti è una cosa normale tu hai russato? il mio calore è diverso ma non lo sai se è russato o no quindi quando uno accusa un altro che russa non lo può accusare perché non lo sa se russa anche lui è bello ah che bello sciare ha proprio gusto sotto il tono c'è il culo riscaldato così è tutto caldo vai con i folk folk and sky folk folk mamma mia ragazzi il pranzo scusa ma il castoro lo fate? il castoro? eh il castoro c'è? si ci facciamo solo il castoro che la mamma la marmotta? no no solo il castoro solo il castoro lo ammazziamo signore oggi salame di castoro speck di castoro lardo di castoro ti piace il castoro eh? è buonissimo ripieni al castoro tu che ti sei preso? il castoro castoro come? la braccia castoro alla braccia la marmotta tu hai preso la marmotta la marmotta più bello quando uno va scià è toglisi i scarponi ah che bello mamma mia ah che goduria ah bello coccodrilli grazie a Elia alle 18.30 tornano le avventure del fa quindi tutti su youtube ora subito andate iscrivetevi 18.30 le avventure del fa il video su youtube cliccate qua le avventure del fa quindi 18.30 l'avevo messo posso capire il 23? no ma quello mi ha fatto a 20 dai dai ma stai pensassi di te perché? dai amore fermalo salvo fammi apri i 23 no 24 dai smetti vai dai oh guarda questo qua che c'è l'ultimo Alexa stop basta ma perché dai Alexa riprendi riproduzione dai Alexa stop boh si diverte Alexa stop Alexa riprendi riproduzione ma non c'ho stato io come hai detto? eh vedi l'hai sentito? no Alexa stop dai Alexa stop che fatica in questo ristorante nuovo di Campiglio questo è lo chef sì Alexa stop da quando fa le storie va bene quando fa le storie che hai fatto? eh? ho fatto un risottino allo zafferano vedo con salsiccia e poi le polpette ma come 150 ma quanto costa? ma scusa con quanto vale? partitorio a Monopoli eh? con quanto vale? con 1500 8 ma è pagato 150 poco freddo ghiacciata all'interno quant'è? meno 9 meno 9 non è fresco dai guarda qua eccolo qua buonanotte a tutti si va a dormire presto sono a te sempre qua con la mia ragazza ah sì sì è lì domani mattina se scia dà paura tempo dà paura quindi tutto pronto anche la mia ragazza non vede l'ora cioè veramente sto rapporto non mi rompi i coglioni sta tranquilla hai posto di tutto ah benissimo dopo buonanotte a tutti vi ringrazio siete sempre i numeri 1 sempre positivi e sempre allegri raga eh perché che tristi famo ci sta gli altri che cazzo c'è noi siamo coccodrilli bisogna essere sempre felici viva la vita anche perché chi trasmette allegria positività riceve lo stesso quindi queste sono delle regole fondamentali per vivere datemi retta basta va a dormire non vi dico qui niente non vedo più nessun segreto ma non parli che stai fa? eh sto lavando la stufa sto facendo la televisione e dopo? e dopo amore ho dormito e poi? e poi dormo e dopo? e dopo ho chiamato per darti la buonanotte quando avviene? e? il tinkibu e andri eh? dove pesco regge? no ma hanno messo un tappo sul sedere sì oh ti manco? ti manco? insomma quanto? così così quando torno famo il presepino insieme hm dormi assieme no il presepino insieme famo il presepino insieme dove? dove? e qui sopra il cammino eh buonanotte saluti mesbiftist buonanotte chi ti salutà? sto caso vaffanculo ciao a domani ciao ciao ciao